Amici di Fashion One, questa è l'American Bar di Poggiardo. Oggi è l'inaugurazione dell'aperitivo domenicale, quindi per chi volesse venire a trascorrere delle domeniche rilassanti, ascoltando della buona musica e gustando degli ottimi aperitivi, l'American Bar è l'ideale. Vorrei sottolineare la bellezza dell'arredamento di questo posto e soprattutto i quadri sono davvero strepitosi. Questa è la sala inferiore dell'American Bar, dedicata alla musica dal vivo. Questa è la sala inferiore dell'arredamento di questo posto e soprattutto i quadri sono di questo posto. Vi presento Franco, il proprietario dell'American Bar, buonasera. Buonasera a voi. Franco, questa sera sono cominciati gli aperitivi domenicali. Sì, noi abbiamo creato questo nuovo tipo di attività, è sinceramente un bar storico di Poggiardo, l'abbiamo riportato in vita in questo modo qua. Abbiamo pensato all'aperitivo, è un aperitivo un po' particolare, l'aperitivo si chiama Fingerfood, è un nuovo modo di fare l'aperitivo, è un prodotto che a livello europeo è già presente da tantissimi anni e l'abbiamo portato in Italia in questo modo qua. Per quanto riguarda il bar, noi abbiamo proposto questo nuovo tipo di attività con prodotti che vanno dalla Sicilia al Piemonte, tutti i prodotti di primissima qualità e sono prodotti tipici di ogni singola regione d'Italia. Per quanto riguarda le serate, abbiamo una vasta programmazione già presentata, si parla di musica live che va dal jazz al discorso del DJ set, piuttosto che comunque va di eventi live che riguardano sia musica nazionale e internazionale. Franco, comunque complimenti per l'arredamento perché è curato e non in minimo particolare. Quello che cercavamo di dare in un locale di questo tipo qua, è un locale storico di Poggiardo, abbiamo cercato di dare vita a quello che era la struttura, perché il bar antico di Poggiardo è nato nel 1948, era un bar particolare, il bar dei signori dell'epoca e abbiamo riportato in vita quello che era il locale dell'epoca insomma. L'American Bar è suddiviso in due sale, la sala superiore e la sala inferiore. E quanto riguarda il classico bar, la caffetteria, sotto invece riusciamo a coniugare un po' quel discorso di fare la cena o comunque anche il pranzo, sempre sotto l'aspetto del finger food, finger food che è un pranzo completo, una cena completa, proposta in modo diverso rispetto al solito. Comunque anche sotto noi utilizziamo la sala come sala da te e anche per far passare un po' di pomeriggi insieme, anche fra amici insomma. Poggiardo è una cittadina bellissima e l'American Bar è un bar davvero in che merita questa città. Sì, anche quello, per quanto riguarda lo stile abbiamo cercato anche di riprendere quello che è il centro storico poi di Poggiardo, che appunto è uno dei centri storici più belli di quelli che ho visto, anche se io non sono di Poggiardo, però lo stimo molto perché è veramente un bel paese, un bel centro. Franco, invitiamo tutti gli amici di Fashion One a venire a trascorrere delle domeniche davvero tranquille, rilassanti all'American Bar. Vi invito tutti a venire a trovarci, a gustare il nostro finger food, il cocktail, oltre al classico hotel, la caffetteria. Ringrazio Fashion One che è venuto a trovarci. Ringrazio Fashion One